In prima tv su Focus L'astronauta che ha vissuto per un anno nello spazio I love you daddy Come potrebbero essere andate realmente le cose a Chernobyl Tra cielo e guerra, storia di aerei La segretaria di Josef Goebbels si racconta È così difficile rispondere Ufologia, mistero o fantasia? I robot che a Fukushima scongiurarono il peggio Le meraviglie nascoste del Sudafrica David Beckham on the road Alla scoperta dell'Amazonia e della libertà Focus è tutta nuova Vuoi sapere come sarà? Scoprila in prima e seconda serata Da giovedì 17 maggio Al numero 35 del telecomando